Una città disorientata e smarrita, a tratti confusa, davanti a un evento drammatico quanto inaspettato. E' la Torino dei giorni del lockdown raccontata dagli scatti di Thomas Cajuero, giovane fotografo brasiliano da poco arrivato a Torino, autore del reportage Dal vuoto al volto. La mostra fotografica, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Volto di Torino, è allestita sulle otto vetrine dell'URP del Consiglio regionale di via Arsenale 14. Un percorso capace di mettere in evidenza la forza di una comunità che nelle lunghe settimane dell'isolamento e del distanziamento ha saputo riscoprire il valore della solidarietà e dell'unione. Il Consiglio regionale ha voluto istituire una mostra fotografica su dei volti che hanno dato una grandissima mano nel periodo Covid e nel periodo del lockdown, che sono quelli sanitari, soprattutto quelli che hanno toccato le parti più deboli della popolazione. All'interno dell'istituzione e del sociale c'è stata la volontà del volontariato di dare una grossa mano e il Consiglio regionale ha voluto gratificare con questa mostra i volontari in Piemonte. Questa mostra appunto racconta di spazi vuoti, ma di cuori delle persone che invece sono stati riempiti grazie all'attività dei volontari, persone che hanno sfidato il Covid e sono messi a disposizione degli altri e ci fa ricordare fondamentalmente due cose. Uno della grandezza di queste persone, ma secondo che potremmo diventare anche noi persone come loro, persone che da questo punto di vista hanno deciso di dare gratuitamente agli altri. Quindi un monito a fare attenzione perché l'emergenza è ancora finita, ma ancora di più a pensare che in un futuro uno può diventare uno di quei volti che gratuitamente si sono spesi per gli altri. Cajueiro ritrae il vuoto delle strade, i dialoghi dalle finestre, gli incontri fortuiti nelle code davanti ai negozi, l'angoscia di una città che ha smarrito la sua normalità. Ma dal silenzio delle vie emergono i volti e i ritratti dei tanti che giorno dopo giorno hanno combattuto la pandemia con forza e determinazione. I volontari delle tante associazioni turinesi il volto umano di un'emergenza senza eguali. Gli scatti ci fanno vedere una città vuota, una città che ha paura, una città che non esce e poi ci fanno vedere i volti di tutti quelli che hanno cercato non di riempire il vuoto perché il vuoto era comunque vuoto, ma di riempire le giornate di quelle persone che rimanevano chiusi in casa. È stato un momento dove il volontariato veramente credo che sotto l'aspetto operativo ha dato il meglio di se stesso. La mostra dal vuoto al volto rimarrà esposta sulle vetrine dell'URP del Consiglio regionale di via Arsenale 14 a Torino fino a mercoledì 30 settembre.